dopo un anno di lavoro a casa finalmente ci compriamo il frigorifero, un frigorifero gigante 380 litri, una roba proprio immensa. i frigoriferi li avevo anche al ristorante ma quelli del ristorante sono troppo rumorosi e troppo grossi quindi a casa non mi ci sta ma la vera domanda è come si sceglie un frigorifero sicuramente non in base alla marca ma in base alle tue necessità e alle funzioni di cui tu hai bisogno questo è il concetto di base infatti non ho detto che il frigo che ho acquistato io va bene anche per la tua casa ciao benvenuta o benvenuto nel mio canale oggi scopriamo insieme come fare il miglior acquisto della tua vita ossia il frigorifero perché il frigorifero tendenzialmente uno di quegli strumenti che ci accompagnerà per un sacco di anni all'interno della nostra cucina diciamo tendenzialmente minimo 10 ma potrebbe durare anche molto di più ad esempio a casa di mia mamma c'è un frigorifero della Lieber che ormai dovrebbe avere intorno ai vent'anni ed è ancora perfettamente funzionante probabilmente consumerà un po' di più rispetto a quelle che sono le richieste oggi per quanto riguarda la classe energetica però nonostante tutto è ancora lì bello splendente e funzionante come ho fatto a scegliere il mio la dimensione del frigo che acquisti va naturalmente tarato alla dimensione della famiglia che hai detto questo noi siamo solamente in due ma io faccio i corsi di cucina online e di conseguenza ho bisogno di un frigo super capiente perché quando ho tante preparazioni devo per forza avere tanto spazio in frigorifero in più se sei un mangiaverdura hai bisogno di un sacco di spazio in generale perché in particolare se utilizzi foglie verdi se utilizzi insalata coste erbette cime di rapa cavoloriccio tutta questa verdura qua occupa un sacco di spazio all'interno del frigorifero e se non c'è lo spazio è un casino poi non riesci a comprarti le cose oppure le compri ma poi le schiacci tutte dentro poi si vanno a rovinare quindi è un peccato io volevo un altro modello di frigorifero ma non sono riuscito ad acquistarlo perché non tanto per il prezzo che costava un pochino di più ma proprio per lo spazio fisico perché purtroppo avevo solo un massimo di larghezza di 65 centimetri e un 65 centimetri di profondità e l'altro frigo che poi ti lascio qui sotto in descrizione che avevo visto che secondo me sarebbe stato molto interessante purtroppo non ci stava neanche a piangere oppure mettevo dentro ma uscivo io dalla cucina quindi ho detto vabbè niente rinuncio a questa cosa il fattore grandezza importante naturalmente controlla le misure e lo spazio che hai in cucina per poter mettere il frigorifero e poi alla fine nella vita bisogna adattarsi il succo di tutto è questo una caratteristica importante che ho guardato quando ho acquistato questo frigorifero erano i cassetti della verdura perché perché oggi tantissimi frigoriferi ma non tutti hanno la ventilazione forzata la ventilazione forzata di per sé è una figata perché praticamente aiuta a distribuire il freddo omogeneamente all'interno del frigorifero e anche molto più velocemente quindi a livello di performance è molto meglio ma con le verdure hai un problema la ventilazione forzata fa sì che le verdure s'affiappano prima diventano tutte flosce perché quando il freddo colpisce così con forza la verdura questa in particolare non so insalate le biete così proprio vanno giù vanno giù diventa tutte molli e quindi i cassetti della verdura servono a questo a riparare la verdura dalla ventilazione interna nel mondo della ristorazione infatti esistono proprio le celle per la verdura che tendenzialmente quasi tutte hanno un raffreddamento passivo che cosa vuol dire vuol dire che per l'appunto non c'è la ventola che fa girare il freddo ma semplicemente le pareti vanno a raffreddare con diciamo delicatezza e di conseguenza non ti va a rovinare la verdura quindi alla fine ho guardato che il mio frigorifero avesse almeno tre cassetti per la verdura a prescindere dei cassetti della verdura io faccio la spesa con cortiglia cortiglia ha una cosa molto carina che ti imballa tutte le verdure e la frutta all'interno dei sacchettini di carta io comunque scelgo di lasciare dentro la verdura all'interno sacchetti di carta perché il sacchettino di carta è una protezione in più e quindi aiuta sicuramente a non rovinare troppo velocemente la mia verdura qui praticamente c'è il primo cassetto e sotto la quei cosi la sono quelli per fare il cassetto a zero gradi quindi adesso io li chiudo perché lo zero gradi non lo utilizzo però come funzione c'è come vedi ci sono queste piccole bocchettine che fanno uscire l'aria solo a questa altezza del cassetto e in questo modo il cassetto scende a zero gradi questo servirebbe per conservare alimenti che io non utilizzo quotidianamente nella mia vita magari può venire utile per qualcuno se mette ad esempio del seitan tofu tempeh affettati vegetali ecco cose che magari anche se stanno lì un pochino più al fresco non gli fa male gli allunga un po la vita e questa è sempre una bella cosa comunque devo dire che questa funzione anche l'idea di fare un frigorifero che ha questo cassetto con gli zero gradi è veramente una figata c'è l'idea è proprio geniale bravi 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 perché la ventilazione è importante abbiamo già detto due parole prima per quanto riguarda la ventilazione ma la ventilazione è una figata soprattutto in un frigorifero di casa perché veramente dirà la capacità di raffreddare molto molto più velocemente i cibi all'interno detto questo un frigorifero professionale ha un compressore molto molto più performante rispetto naturalmente a quelli di casa e quindi raffredda comunque più velocemente naturalmente questa ventilazione non diventa un abbattito di temperatura e comunque non può metterci dentro le cose diciamo ancora calde cioè non è che puoi prendere una pentola di zuppa che ancora 80 gradi la metti nel frigorifero questo no però magari quando inizia a essere 40 gradi magari puoi iniziare a pensare di metterla dentro ecco lo volevo con la ventilazione anche per un semplice motivo che ad esempio adesso ti faccio vedere ho dentro l'impasto del pane quando voglio farlo raffreddare e poi cuocerlo il giorno dopo con l'altro frigorifero che avevo purtroppo non riusciva a raffreddare abbastanza velocemente quindi alla fine il pane comunque andava avanti a levitarmi lo stesso e alla fine devo cuocerlo un'ora dopo e quindi ho voluto proprio avere la funzione ventilazione proprio anche per questo specifico motivo l'unica pecca di questo frigorifero che ho acquistato io che il tasto della ventilazione non l'hanno messo fuori ma è dentro quindi devo aprire l'anta e schiacciare il tastino questo cosa vuol dire che ogni volta che apro l'anta naturalmente entrerà del calore ed uscirà del freddo che d'inverno non è un grosso problema d'estate un po' sì perché l'idea il concept anche di avere la ventilazione sta anche nel fatto di prima di uscire a fare la spesa schiacci il tasto ventilazione il frigorifero si raffredda un po' di più ritorni a casa metti dentro tutto lascia andare ancora ventilazione e diciamo che la tua spesa si raffredda più velocemente la classe energetica devo dire la verità è stata la cosa più complicata da capire perché oggi è arrivata giustamente con mazzo la nuova classificazione quindi non si capisce una mazza tant'è che il mio frigorifero ha due etichette quella nuova e quella vecchia con la classe energetica vecchia era una più più ok quindi già non era male con la classe energetica nuova diventa una e ma la cosa che fa troppo ridere è che a livello non so come mai da una parte segnano 132 kilowatt l'anno e dall'altra segnano 121 kilowatt l'anno ora questa cosa qua devo dire che ci ho sbattuto un po' la testa e alla fine ho deciso quando sto guardando tutti gli altri frigoriferi di non guardare tutte le letterine controllo solo la caratteristica più importante ossia quanti kilowatt anno consumano quindi questo mio frigo ha 380 litri di capienza e ho detto prendiamo degli altri frigorifero che hanno più o meno la stessa capienza e vado a vedere quanto consumano perché veramente su queste cartelline qua non si capiva una mazza quindi il mio consuma 132 kilowatt anno poi ci sono dei frigorifero che ne consumano di più e di frigorifero che consumano di meno quello che avevo prima comunque consumava 200 kilowatt l'anno e quindi già consumava molto di più di questo e già ho abbattuto sicuramente un po' di bolletta e un po' di inquinamento ad esempio ho visto che c'era il frigo della samsung che mi piaceva un sacco perché aveva anche il metal cooling che era una roba che mi piaceva però niente quello purtroppo non mi ci stava consuma 115 kilowatt l'anno poi c'era un altro da lg sempre con la stessa dimensione che ne consumava 145 di kilowatt l'anno e un altro della bosch che ne consumava 112 quindi io ho preso il parametro della corrente consumata per riuscire a districarmi in questa cosa delle classi energie comunque se qualcuno ha capito perfettamente tutto questo meccanismo e lo vuole scrivere in parole semplici sotto nei commenti liberissimo di farlo l'unica grande pecca secondo me che hanno questi frigo qua quindi il frigo monoporta come l'ho voluto io quindi solo frigorifero senza il freezer perché il freezer non ce l'ho giù in cantina è la non possibilità di poter aprire solo una parte sopra o la parte sotto del frigorifero quindi avere lo stesso la grande anta ma divisa in due so che alcune cose ce ce l'ho al piano di sopra apro solo il pezzo sopra e altre cose ce l'ho solo al piano di sotto e apro il pezzo sotto ecco questo sarebbe stato molto intelligente secondo me anche a livello di risparmio energetico perché perché in effetti cioè se apro tutto il frigorifero naturalmente uscirà una bordata di freddo perché è particolarmente grosso c'è un frigo dell'alg che ho visto che ha tutta questa funzione qui solo che è immenso perché tipo un frigo americano con il freezer di fianco leante sopra leante sotto leante nelleante sicuramente l'idea e il concept è molto interessante è che anche a volerlo qui non mi ci stava neanche a piangere quindi è già stato scartato a prescindere il mio frigorifero quindi alla fine di tutto ha una capienza di 380 litri, bel frigorifero importante ha la ventilazione quindi per raffreddare più velocemente, un consumo kilowatt annuo che non mi sembra eccessivo in base alla dimensione del frigorifero, ho scoperto che ha all'interno ma questo non lo sapevo prima quando l'ho acquistato, un gas non inquinante che si chiama mo te lo dico R600A perché non so se lo sapevi ma i frigoriferi cioè il gas dei frigoriferi fino a qualche anno fa erano una delle cose più inquinanti per quanto riguarda il nostro pianeta. A quanto pare adesso hanno messo dentro questo nuovo tipo di gas che non crea problemi ti lascio sotto il link della scheda di questo tipo di gas quindi quando l'ho letto ero anche particolarmente felice di questa cosa. Alanta in acciaio davanti antiimpronta e poi altra cosa molto importante, posso cambiare l'apertura della porta da destra a sinistra o da sinistra a destra e questo è sempre una cosa da guardare perché magari uno poi lo mette in cucina e dice ma mi sarebbe servita la porta che si apre di là ma non si può! Gli unici difetti che ho riscontrato per il momento adesso dopo circa due settimane di utilizzo di questo frigorifero, la maniglia non è che non mi sembra particolarmente performante quindi non so se durerà per sempre oppure no però vabbè comunque per un momento è su e va bene. Vedi la maniglia è anche bella è che vedi che è un po' molle il tastino della ventilazione che devo per forza aprire il frigorifero ecco questa cosa non è che mi emozioni particolarmente secondo me in questo frigo potevano ammettere dentro di default un ripiano in più non mi avrebbe fatto schifo sicuramente anche semplicemente o da avere di scorta o da decidere se lo metto o non lo metto ecco questa sarebbe stata sicuramente una cosa intelligente e poi ho un cassetto della verdura che è un po' ballerino perché ciondola un po' sta lì però non è che si incastra proprio perfettamente mentre gli altri due vanno bene ma quello sopra sto cercando di capire se non l'ho incastrato bene dentro io o no però per il resto le performance sono super interessanti una cosa che ti consiglio sempre di fare ormai questo termometro laser lo vedi praticamente quasi in ogni video però col termometro laser puoi andare a controllare le temperature interna del frigorifero anche semplicemente quando te lo compri per capire se funziona tutto bene se imposti la temperatura e vedi che se gli metti 4 gradi dentro ci sono 4 gradi vuol dire che funziona bene se gli metti 4 gradi dentro ci sono 12 gradi vuol dire che non funziona bene quindi questo laser è super importante per scoprire la temperatura del tuo frigorifero reale consigli in generale per mantenere vivo e vegeto il tuo frigorifero lascia lo spazio dietro al muro di solito tutti i frigoriferi hanno praticamente dei piccoli pezzettini di plastica da incastrare nella retina dietro in modo che tieni lo spazio dal muro e questo serve a far dissipare il calore meglio dalla serpentina che c'è dietro questa è una cosa super importante in particolare d'estate in particolare se bevi in un posto caldo non caricare il frigo a cazzum questo è un c'è tipo un caposaldo dei frigoriferi non puoi caricare il frigo tipo che sta esplodendo che non ci sta dentro più niente perché perché se lo carichi eccessivamente naturalmente fa molta fatica a raffreddare ma questo sia un frigo di casa ma anche un frigo professionale e cosa super importantissima se stai comprando frigorifero nuovo appena te lo consegnano a casa intanto fai la prima domanda super importante al corriere che è scusi il frigorifero era in piedi o era sdraiato? perché una delle cose più importanti quando ti consegnano il frigorifero a casa è quello di lasciare il frigorifero in piedi per almeno 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 quattro ore in questo modo il gas all'interno si ridistribuisce bene e dopodiché lo vai ad accendere se lo accendi prima e il frigo è stato sdraiato per mezza giornata sul camion del corriere e tu lo accendi praticamente il frigo non raffredderà più come prima perché il gas si è distribuito in maniera non uniforme all'interno dei tubi e quindi le performance del tuo frigorifero saranno rovinate quindi fai sempre la domanda al corriere. penso di averti detto tutto, ti lascio qui sotto nei link in descrizione il link del mio frigorifero e il link dei vari frigorifero che ho valutato che secondo me potevano essere interessanti fammi sapere che cosa ne pensi, fammi sapere che frigo utilizzi tu, come ti trovi e quali sono le performance del tuo frigorifero. detto questo ci vediamo al prossimo video ciao. Allora volevo fare una cosa bellissima per questo video, solo che poi avevo paura di rovinare il frigo e volevo mettere il frigo in cucina, smontarlo da tutte le cose e entrare io nel frigorifero e poi uscire dal frigo, solo che avevo paura che magari il pavimento non mi teneva non teneva i miei 80 kg e ho detto porca miseria se poi rovino il frigo nuovo e allora ho detto vabbè lasciamo stare, però sarebbe stata veramente una scena epica, volevo aggiungere poi tutti gli effetti del fumo che uscivano, sarebbe stato bellissimo